cari videogiocatori benvenuti dal vostro danimania retro games e non solo barra scorpion un attimo che sistemo qui qualche cosa come solito e iniziamo subito spero che mi sentite io penso di sì e iniziamo subito a giocare al mortal kombat vs dc devo mettermi gli occhiali se non vedo un cacchio e qui sono necessari ecco qua allora andiamo intanto alle opzioni del gioco gioco medio va bene durata round no sangue si ovviamente sangue si lasciamo tutto come video lasciamo tutto come qui funziona tutto ricontrolliamo bene torniamo indietro e facciamo ed un giocatore caro facciamo l'arcade non farò la modalità storia l'arcade e possiamo scegliere i personaggi e io ovviamente prenderò scorpion ok non faccio visto ma farò direttamente ed esclusivamente mortal kombat e iniziamo la nostra scalata il mio primo avversario niente poco meno di che barracca ora io non è che mi ricordo più i tasti però saranno più o meno sempre gli stessi dai scorpion oh bastardo si i tasti sono sempre quelli vieni qua ti spacco tutto come ausi хотел parlare voi vieni qua get over here get over here get on you fucker momi scorpion 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 fermo ragione parsley Farm pai Fai! Come here! Get over here! Fire! Come here! Come here! Come here! Finish him! Finish him! Come here! Scorpion wins! Secondo avversario, Keno! Non mi ricordo le Fatality, quindi... No! 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 Come here! Come here! No! M'ha fregato! Come here! Come here! Dove guardi? Come here! Scorpion wins! Round 2! Fight! no scorpion 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 Round 1, quasi... Nooo! No, fuck up with that! Questa fa male! Te la farò pagare! Si difende? No! 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 Oh, come on! Wings! Yeah! Hey, chalarma gaydon! Come here, come here! Che va! E' una guerra all'ultimo sangue! Che lo mio! Le scorpione si incazza! No! Nooo! Come ho così? No! Io sono il vero Scorpion! Come here! Sì! La maschera di Scorpion! Get off! Get off! Falso Scorpion! No! 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 Non va bene! Nooo! Nooo! No! Non l'accetto! Non l'accetto! Non l'accetto! voglio la rivincita non mi arrenderò così facilmente ovvio ovvio prendo scorpion oddio mio bene sto benissimo sto benissimo questa registrazione c'è questa live andrà a finire su youtube quindi sarà registrata caro amico mio armageddon vediamo di battere questo scorpion falsa scolpione ah come on yes 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 non so te amico io ma io preferisco questi questi tipi di molta combat piuttosto che quelli nuovi sono molto più belli questi fatti sotto fatti sotto non ho paura come brucia tanto non vincerai un a yes tanti beh potrei provare a mettere pausa e farne una il mio prossimo avversario è new king abbattiamo luci e ing bia ha guardano 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 guarded guardana guardano no l'attimo non posso come il cacchio ha fatto te lo farò pagare o no non era finito come brucia ma stato decisione niente non riesco a farà fatale ciao danny ma poi la switch l'ha venduta non riesco a capire chi è profilo switch si comunque sia si l'avevo venduta la switch alla fine poi l'ho venduta perché tanto non lo savo più non la giocavo più gioco sempre xbox quindi subzero interessante come hai usato non hai un po di freddo di caldo vuoi un po di caldo è troppo freddo qui to scaldati un po po stanzo maledetta c'ho cascato ah che cazzo non ho no non oserò i grazie puro ah sono marco mi sono connesso ma tra un po devo lasciare chizi sono difficili da fare fatality allora ciao ragazzi ciao marco ciao chizi si le fatality sono difficili problema non posso nemmeno mettere pausa per vedere le fatality nel momento delle fatality un ottimo non sono solo eh ok lista mosse quindi vediamo insieme scurpi fatality credo sarà verso la fine le fatality ah elenco super mosse si fatality fatality queste non sono fatality molto strano beh non ne ho idea riprendiamo il gioco come hai usato 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 aiut come hai usato davvero ho davvero l'acchiso no oh no oh no come here no way what a bit hey ehi! mi sta scattando la faccia! a dirò... andate una gammata! ah non mancavato come on non l'accetto io continuo oh yeah oh yeah oh yeah continuo Scorpion Scorpion for bastardo jocks lo stavo per massacrare e poi alla fine non lo so pare che si è risvegliato bastardo schifoso ragazzi vi ricordo che è retro compatibile con la xbox serie x e infatti sto giocando con quella grande titolo grande titolo eh si bravo bastardo tutti i benefici dopo è da un poco di calore la vita come on e fa questa mossa schifosa assurdo assurdo la vita come on e fa questa mossa affanculo nooo la fatality nooo non l'accetto scusate io devo lo devo battere ce l'ho qua qua ce l'ho qua ce l'ho qua un machine caccia l'ho qua dei anziani datemi la forza direbbe Raiden e lo scerò io mi impegno mi impegno ragazzi mi impegno ve lo prometto mi impegno non gliela devo vinta azzani ah avanza caffanculo bastando toto toto no questo e 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 questo toto ogra vivo è tosto è tosto no come here come here oh no ah yes Bello Shirai Ryu! Ce l'ho fatta! Ah, Raiden! Dio del tuono e protettore del regno della terra! Sarà un po' difficile batterlo, ma non è impossibile! Ah, come on! Già mi sta dando del filo da toccio! Pazzacchetta! Ah, Raiden! Dio del tuono! Nacchè! Adderò l'ina gai mada! Ah 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 Oh Scorpion wins Honore a Scorpion Kitana Kitana Siamo quasi giunti al termine Devo battere solo Qualche altro avversario Ed ecci Cosa pensi di fare Donna Come osi affrontare Il grande Scorpion Sta spaccando tutto Oh come on Andava a cagare Mi piace il tuo grido Donna Grida per me Grida Fregata Grande 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 Grazie Brucia 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 Grida per me A Un Grazie a tutti! Grazie a tutti! Oh, Shao Kahn, imparatore! Vieni qua, Shao Kahn! Ferovi anche a te, Shao Kahn! Oh, brucia pure tu, Shao Kahn! Non sei degno, non sei nessuno! Come osi sfidare Scorpion e ne sono migliore di te? Sei nozzo, impotente! No! Fa male, Shao Kahn! Fa male, Shao Kahn! Come una pezza ti dirò, ahia! Oh, fregato! Pizzica, non gli faccio niente, annaggia Ido! Però bruci, la stessa bruci! No! 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 Ah! Bastante schifoso! Ce l'ho qua, si! Ah! No! Oh, riprenditi! Brucia! Stanno scannando come le una! Come via! No! No! No, schifoso! No! 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 Sta a ridere pure! Non mi fa cambiare i nicki chizi, ma sono sempre Armageddon! Che palle! Non fa niente Armageddon! Non fa niente! Ricordamelo sempre che sei tu quando vieni perché... Capace uno scordo! E io non mi arrendo perché lo voglio finire con Scorpion! Quando viene all'Arcade! Non... La modalità storia! Poi la farò lo stesso! Più in là! Più in là la farò la modalità storia! Ma questo lo porto a YouTube! Per tutti coloro che se lo perderanno! Possono recuperarlo! No! No! Affanzacchetta! Oh! Non sei degno! No! Un imparatore! Un pifero! No! 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 got sat on right oh you do you don't come on scordia breeze yeah yes oh come on no tell I get paid to No, ma fregato! come spettino puoi farcela brucia bastardo schifoso brucia aia 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 c'aveva una coscia per dire c'è una canna quando un colpo no no di nuovo abbattuto bastardo ma io non mi arrenderò ho detto che lo voglio finire e lo finirò ed è messo in modalità normale voglio dire però ovviamente come tutti i giochi di bicchiatura più si va avanti più i pesaggi e forte poi parliamo di shaghan tra l'altro fatti sui tifoso merdoso fuoco bello fuoco 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 via via da mazza come 30 per cento di danno sì 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 brucia come no no vado a dire che pezzo di me taglia tale che bastardo tale che bastardo tale che bastardo cioè non mi ha fatto manca alzare schifoso oh come on non vincerai dai dai me l'ha previsto me l'ha prevista che bastardo non mi dà tempo e colpire nell'aria no io il costume da lion che ne di fatto anni fa per carnevale avevo speso 300 mila lire a me mi deve arrivare il costume completo di scorpione del mortal combat mi deve arrivare l'ordinato questo è solo diciamo una doppia maschera non è nemmeno quella giusta però per tamponare vero preso il vestito del moto di scorpione del mortal kombat 2 quello classico non mi sconfiggerai shao khan di merda si 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 un cazzo di quanto vuoi ma stavolta non vincerà oh come on non mi sconfiggerai non mi sconfiggerai certo ha preso il rage e non potevo toccarlo non gli facevo niente e all'ultimo sangue no pazza che tu brucia battuto scioccante battuto lo metti qualche raduno ah no no non credo se c'è qualche cosplay raduno si lo farò ovvio lo farò certo dark khan il shoghan era difficile pensavo a questo qua a a ma mi se l'ando for to resta ii a a a a a questa era bella ora si incazza sicuro che si incazza due boss siamo ammazzati va male ok yeah reach come on c'è la modalità facile facile però ho messo modalità media ormai l'ultimo personaggio lo batterò lo batterò questione di tempo ascolti e non batterò lo faccio per lo shirai riu lo batterò la maschera se ne sta andando tutta per inizio ai ground one fight yeah a congiore no 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 Ma non mi fa azzare Vi ha tolto un sacco di energia per niente Pure, pure il rage Pure, pure il rage Yes, 24% Voglio di niente No Get over here No Oh, cacchio di rei, dico isso Come here Oh, brucia No Come ha fatto a parar si con il rage No, 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 no Sembrava che ce l'avevo in pugno e non era così Ah, vai, vai, vai Ragazzi, ce la devo fare L'occhiale è casa a panna, non vedo più una mazza Qua in sci Ok, dai, ce la posso fare Round one Flight Get off Come here Come here Ah, porca mannaggia C'è un cacchio di rage Ah, fanzacchetta No Brucia Bastarda, non l'ho preso Eh, sì, brucia qua Muori, brucia Figlia fuoco Barbecue Brucia Dai, c'è qualche piccola speranza C'è Lucia No C'è No 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 Ok Over here Come here Come here no no non ci voleva questo poi con una mossa mi leva un sacco di energia questo pure il regge ci mette anche bastardo schifoso ma io non mi arredo non mi arrenderò finché lui non per la vincerò il torneo del mortal kombat tabella arcade ok la storia è bella comunque ce la posso fare oh che cacchia fa no 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 get over here si se save here save me oh come here come here no ah cacchio questo rage è ma fregato come on oh mio no lucia 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 ho battuto il bastardo esplosione godiamoci la fine che dice sebbene dark canna sia stato sconfitto la sua coscienza è sopravvissuta la malvagità e il potere di dark lord hanno trovato l'ospite perfetto nel corpo del temibile scorpion durante la sua agonia scorpion sapeva che ben presto sarebbe diventato la creatura più potente dell'universo se fosse sopravvissuto alla trasformazione grazie bro fine dell'arcade del mortal kombat molto bello bene noi ci salutiamo e questa registrazione la potete vedere poi su youtube al prossimo video quindi noi ci rivediamo al prossimo video ciao armageddon grazie per essere stato qui ciao marco ciao ragazzi che mi avete seguito in questa brevissima live grubi a tutti ciao 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 e grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti